Roma presenta tanti quartieri con gli slam romani, però ne abbiamo individuato uno che è particolare proprio anche per la natura di queste baracche che insistono su dei resti monumentali e archeologici che sono l'acquedotto Appio Claudio di matrice romana e l'acquedotto Felice invece di matrice rinascimentale. Questi due acquedotti si incontrano in un punto meraviglioso che è il Parco degli Acquedotti a Tor Fiscale, dove c'è anche la Torre del Fiscale, una torre medievale e intorno è pieno di baracche. Allora lì abbiamo pensato di intervenire in maniera simbolica anche per richiamare la grande bellezza della nostra città che deve ritrovare la sua via sostenibile. Per questo tra l'altro uno dei titoli che diamo al nostro progetto è The Great Sustainable Beauty, proprio a richiamare il fatto che Roma ha la possibilità di recuperare quello che aveva e di ridare poi, di creare un quartiere anche attrattivo per tante persone anche se in periferia.